Il Bosco Corundoli di Monte Cilfone non verrà più sventrato dal passaggio del metanodotto Larino Chieti, in quanto il Ministero dello Sviluppo Economico ha accettato le varianti al progetto proposte dalla società. L'opera infatti verrà realizzata con il cosiddetto sistema di trivellazione orizzontale controllata, a 90 metri di profondità, partendo da un'area privata fuori dal bosco. Stessa procedura anche per il gasdotto San Salvo Biccari, che esiste già e deve essere potenziato. Il progetto della Larino Chieti ha dunque subito un'importante variante con l'interramento della condotta, variante che lo scorso 31 luglio era stata anche approvata dalla Regione Molise. I lavori partiranno da un terreno privato, la cui disponibilità già è stata ottenuta dalla società e al Comune non spetterà alcun indennizzo economico, come previsto invece inizialmente. Sul punto però il Sindaco Giorgio Manes non è d'accordo, anche perché nelle intenzioni di concedere alla società l'uso del demanio civico per 50 anni. Proprio su questo aspetto però il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Fabio De Chirico, fa intendere che la partita è ancora aperta in quanto i proprietari di quei terreni sono i cittadini e bisognerebbe interpellare loro, se sono d'accordo o meno, a far passare sottoterra un tunnel con due gasdotti, considerando anche che quel terreno è sottoposto a vincolo idrogeologico. De Chirico critica anche l'operato del Comune di Montecilfone, che invece di abbozzare dei libere che regolamentano il passaggio di metanodotti sul proprio territorio, dovrebbe seguire precisamente le disposizioni dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 2002 sugli usi civici, coinvolgendo cittadini e regione. Un aspetto su cui è d'accordo il Comitato e i discoli del Sinarca, che quasi da soli in questi anni hanno cercato di sensibilizzare le istituzioni con proteste, sitine e lettere al Presidente della Repubblica per evitare che si facesse scempio del Bosco di Montecilfone. Per Riccardo Vaccaro, Presidente del Comitato, si tratta di una vittoria di Pirro. Insomma, se da un lato sono soddisfatti della variante, dall'altro nutrono dei dubbi anche sull'utilizzo della tecnica di trivellazione controllata che userebbe sostanze tossiche. Il Comitato non è d'accordo sull'operato del Comune, che avrebbe accettato senza batter ciglio la variante. Nella delibera di giunta datata 6 ottobre, l'esecutivo guidato da Giorgio Manes mette nero su bianco l'intenzione di concedere l'uso civico per 50 anni. Ma proprio sull'uso civico i discoli del Sinarca hanno annunciato battaglia, volendo avere parola e merito, così come la legge prevede.